cosa ripariamo oggi oggi abbiamo un iphone xs che presenta un problema frequente ma particolare nella sua riparazione il telefono presenta una mancanza di segnale nessun servizio e digitando il codice asterisco cancelletto 0 6 cancelletto sulla tastiera numerica riscontriamo che è assente i nostri mail troviamo il problema sotto la cpu avete visto nella video iniziale che pigiando sulla cpu abbiamo un valore che va e viene è una linea che purtroppo lì è assente è stata interrotta in un forte impatto quindi c'è stato un distacco della linea proprio sotto la cpu quello che stiamo facendo noi adesso è togliere la cpu e andare a verificare quante linee si sono distaccate ripuliamo bene la zona della cpu per andare a visualizzare le piazzole ma assenti grazie a tutti grazie a tutti vedete qui che ci sono parecchie piazzole assenti almeno almeno 33 barra 4 anche 5 le vedete perché sono non sono color stagno ma sono marroncine con un punto di rame centrale decidiamo quindi di cambiare la scheda madre superiore e metterne una nuova senza problemi proprio per evitare delle piazzole deboli di andare a costruire piazzole che poi rimangono deboli quindi optiamo per una scheda nuova togliamo via anche la memoria e andiamo a rimpiazzare tutto su una scheda funzionante senza problemi qui stiamo ripulendo la cpu dalla dallo stagno originario e dalla regina questa è la parte più delicata diciamo la cpu bisogna avere un occhio di riguardo perché ha presente delle delle linee delle piazzole molto deboli quindi è un attimo che qualche piazzola possa saltare via grazie In questa riparazione è una riparazione un po' anomala perché tra noi tecnici diciamo che l'assenza dell'email non è dovuta solitamente alla CPU ma è dovuta a un distacco di qualche linea sotto la baseband quindi il modem o altri due o tre componenti che provocano l'assenza dell'email quindi è una riparazione anomala questa, è rara come riparazione che le linee che dalla baseband vanno alla CPU vengono a mancare questo è uno di quei casi che ho voluto fare un video proprio per questo perché è particolare come riparazione qui siamo nella fase del reballing, siamo andati a porre pasta sulla nostra CPU e adesso andiamo a fondere tutte le piazzole di stagno e andremo a creare le nostre mezze sfere le chiamo mezze sfere perché fuse sono proprio mezze sfere, non sono delle sfere complete diamo una bella pulita e andiamo a saldare la nostra CPU sulla scheda nuova facciamo il reballing anche della memoria qui andiamo a fondere la nostra pasta stagno per creare anche qui le mezze sfere qui saldiamo la nostra memoria e ora tocca alla nostra CPU la nostra bella A12 prendiamo il socket dove testare la nostra scheda quindi senza saldarla possiamo provarla in questo socket colleghiamo display batteria e la colleghiamo al pc riscarichiamo il firmware vediamo che si accende normalmente quindi è già un segnale che la CPU è saldata correttamente vedete che l'email è tornato la rana è felice e al prossimo video ciao ciao